secondo account va bene allora ecco adesso faremo un glitch ragazzi per avere guardate un poco questa skin ok ragazzi una cosa proprio bellissima allora guardate dovete avere 8 regali disponibili quindi dovete aprire 1 2 3 4 5 6 7 e l'ottavo sarà questo perciò allora ragazzi iniziamo da questo ok io non so nemmeno che cosa c'è dentro credo uno va bene lo equipaggiano poi dopo con le moto abbiamo la morte grazie questa quella cosa molto ma molto bella perché c'è una cosa in prima credo sempre i primi a farlo questo bellissima poi dopo abbiamo altro ah ragazzi aspettate un attimo mi sono dimenticato una cosa guardate una tra le cose più importanti e non giusto adesso sono solo i pacchetti ecco la nostra tipa vabbè niente allora prendiamo qua così c'è pure una skin su questo account mamma mia allora ragazzi adesso mi metto pure la skin l'unica però allora adesso avremo pure la secondo stile o un'altra skin vabbè uguale l'antica quella praticamente andiamo ad aprire questo qua ragazzi poi comunque io non so se dall'altra dovete aprire tutti i regali di sinistra se la volete ragazzi io non so una cosa se voi volete vedere non so se avete un secondo accanto non volete fare un altro fatto una cosa fate una cosa se volete prendere la bananita in anteprima non so se funziona questo aprite tutti i regali e vedete se vi funziona se vi funziona ad aprire da avere la bananita vabbè io adesso so che funziona con questa perché per ultimo tipo gioco crede marsamente non lo so che crede che tipo quello lui vabbè non lo so ecco apriamo questa è interessante abbiamo questo ok qui guardiamo che ne mancano uno due e tre questo è il terzo grazie o questo sapete che non so che cosa c'è io no ho lo stendardo non lo so ah si lo stendardo poi da combo allora prendiamo il penultimo ok adesso è arrivato il momento ragazzi guardate finalmente possiamo aprire la skin tanto aspettata non ci credo ragazzi ragazzi guardate qua non ci posso credere adesso invito un attimo qualcuno ragazzi guardate qua non ci posso credere adesso invito un attimo qualcuno così per far vedere che siamo degli acer vabbè vabbè ragazzi comunque guardate adesso abbiamo pure questo skin in anteprima ma purtroppo qua non ho alcun balletto praticamente non potrei far vedere più di tanto ragazzi ovviamente lo faccio sul mio secondo account la poi sta col cellulare sta pure con la big bubble guardate qua il benissimo ok chi è john vabbè io non so manco chi ho negli amici vabbè ragazzi allora vi saluto questo qua è il glitch e niente posso avere un secondo account non ci avrete quello ciao Ciao!